Questo è un esercizio di stretching per i muscoli scaleni. Io sono seduto sul mio lettino, però voi potete semplicemente mettervi su una comune sedia. Portiamo la spalla in depressione, aggrappandoci con la mano sul lato della sedia o del lettino nel mio caso. Incliniamo leggermente il busto nella parte opposta, fino a quando non sentiamo leggermente tirare. Incliniamo poi leggermente il collo, portando leggermente in retrazione il capo. Quindi in parole semplici, giriamo il collo nel lato opposto e tentiamo di portarlo un po' indietro. Sentirete tirare tutta questa parte qui. Per questo esercizio basta una serie da 60 secondi circa di allungamento per parte. Grazie a tutti.